Esattamente, noi diciamo all'Inps che se anche ci sono delle verifiche ancora da completare, mettete da parte quella parte lì che state verificando, ma ripartiamo con l'erogazione della cassa integrazione, perché si può fare, perché si deve sempre tener conto del fatto che questo è un ammortizzatore sociale, non è un bonus a regalo.